La Festa della Divina Misericordia E sono particolarmente lieta oggi di essere qui per riprendere questo ciclo, festa dell'annunciazione in questo anno straordinario, quest'anno santo straordinario, proprio perché il Fiat di Maria è la prima porta della misericordia che permette l'ingresso di Dio nella storia dell'umanità per la nostra salvezza. E prima di passare a presentarvi la nostra oratrice, permettetemi di salutare il nostro padre decano, padre Nuno da Silva Gonsalves, perché durante proprio queste festività pasquali ci ha raggiunto a sorpresa la notizia della sua anonimina al rettore dell'università. A lui va la nostra riconoscenza per la sua paziente amorevole guida, anche molto rigorosa e esigente. E le assicuriamo, padre, tutto il nostro sostegno spirituale, tutte le nostre preghiere, certi che farà un lavoro stupendo. E ci scusi per questo saluto, ma era impossibile ignorare questa notizia. E saluto e ringrazio di cuore la nostra professoressa, dottoressa Yvonne Dona Slobiten, per aver accolto l'invito. E la dottoressa Dona è docente di Storia dell'Arte Cristiana Moderna e Contemporanea, alla Facoltà di Storia e Bene Culturale della Chiesa. E ci parlerò oggi di Romano Guardini e la carità dell'immagine, la tempesta di Delacqua. Buon ascolto. Buonasera a tutti, grazie per le parole. Vorrei subito iniziare con questa domanda. Che cos'è la differenza tra l'immagine della carità e la carità dell'immagine? Vediamo qui Delacqua, la tempesta, un'opera d'arte del Novecento che è stato rifiutato dalla Chiesa. Un'arte, come loro dicono, non religiosa. Perché lo stile non è elegante e sembra non finito. I cinque testi del catalogo sulla carità, lo splendore della verità, la bellezza della carità, omaggio agli artisti a Benedetto XVI per il 60 anni di sacerdozio, rispecchiano il pensiero della Chiesa, introducendo nel trittico verità, carità e bellezza. Che il Cardinal Ravasi, nel suo saluto, chiama le tre stelle, le tre luci. Papa Benedetto parla, in questo catalogo, della carità nell'omelia della Messa, pro e licendo pontifice, usando le parole di San Paolo, tratte dalla lettera degli Efessini, veritatem facentes in caritate, interpretandole il fare la verità nella carità, come una formula fondamentale dell'esistenza umana. In Cristo, così, coincidono verità e carità. E continua, Papa Benedetto, e nella perfetta sintonia, e nella perfetta armonia di verità e carità, che emana l'autentica bellezza, capace di suscitare ammirazione, meraviglia e gioia, vera nel cuore degli uomini. Fine citazione. Così il suo appello agli artisti è così formulato. Fate risplendere la verità nelle vostre opere e fate in modo che la loro bellezza succedi nello sguardo e nel cuore di chi le ammira il desiderio e il bisogno di rendere bella e vera l'esistenza. E così via. Il catalogo spiega anche la bellezza nell'arte. Parla di un'opera di El Anatusui, che si basa sulla raccolta di materiali di ricupero. Per esempio, colli delle bottiglie di alcoolici, da lui schiacciate, appiattite e ricucite, creandoli arazzi enormi. È commentato nel catalogo la carità di questa arte, usando diversi materiali da buttare per creare un'opera d'arte, l'artista è capace di attirare l'attenzione alle problematiche del suo ambiente. Gli oggetti poveri e di scarto vengono così trasfigurati, resi lussuosi della creatività attraverso antichi e metodici processi manuali, scrive Miccol Forti. Allora è un atto importante per gli altri artisti che creano per uscire dalla loro miseria. Che cosa dice questo catalogo? E che cos'è per loro questa carità dell'arte? Il materiale da buttare così trasfigurato diventa bellezza, attraverso una nuova tecnica. E le opere di questo artista fungono così ad esempio per impegnarsi nella bellezza. E' proprio questo l'immagine della carità favorita già dal Concilio di Trento. Il Concilio di Trento vuole una arte semplice, così comprensibile a tutti, che raffiguri quella verità teologica, realistica, verso la quale la persona senta empatia. Al contempo debba essere bella, elegante, piena di grazia nello stile. Deve rappresentare un ideale che l'uomo deve raggiungere. così possiamo dire la carità dell'arte è perfetto nello stile, perfetto nella sua etica, perfetto nel contenuto e perché perfetti dobbiamo diventare noi. Per cui l'arte diventa esemplare, raffigura un esempio che possiamo seguire o verso il quale sentire empatia. e vediamo subito che questa idea di carità è quella che indica una, e così uso una parola di padre Rozzat che mi è piaciuto tanto, la spiritualità della perfezione. Papa Francesco invece rompe con questo atteggiamento formale e dice L'arte non scarta nel suo nuovo libro. Tuttavia, Papa Francesco parla di Aleandro marmo ma non dello stile né del materiale e neppure della perfezione o bellezza ma solo del atteggiamento dell'artista che vive con le persone scattate e crea artisticamente insieme a loro. Il Papa parla dell'arte riferendosi dunque a un particolare vissuto e Papa Francesco si riferisce in questo caso a una spiritualità della imperfezione proprio di questa parola di padre Rozzat e lui non è da solo. Giulio II ha lasciato lavorare Michelangelo e Raffaello nello stesso tempo nello stesso palazzo sullo stesso tema ma ha lasciato la libertà di esprimere il loro vissuto le loro interpretazioni completamente diverse senza imporre uno schema teologico e stilistico. Urbano VIII parla della retorica dell'immagine lascia dipingere le sue poesie perché dice l'arte è poesia. Giovanni XXIII parla della sofferenza nell'arte e come Paolo VI sviluppa l'idea che l'atto creativo artistico è simile alla celebrazione della Eucharistia e Benedetto dice l'arte deve ferire ma all'inizio di tutto questo sta Ignazio San Ignazio opposto completamente alle regole del concilio di Trento con lo sguardo fenomenologico sull'esperienza stessa di Ignazio potremo aprire un nuovo discorso sull'immagine sull'arte si manifestano le sfumature del guardare fino a al non vedere meglio al sentirsi guardato sorprendentemente San Ignazio che per primo ha dato un impulso teorico a un concetto che trova le sue riflessioni nei discorsi teorici contemporanei sull'arte di di Uberman Sequeri Gadama Guadini nell'entrare in questa riflessione intellettuale vorrei aprire una discussione sulla natura della carità dell'immagine che a mio parere ha il suo nucleo nell'idea di Ignazio secondo la quale l'opera d'arte non è un oggetto da capire e nemmeno un oggetto che susciti un'esperienza empatica spirituale intuitiva mi sembra che dobbiamo capire questo vissuto che non è un semplice sentimento dell'artista e non riguarda la comunicazione di una qualsiasi emozione ma è la forma che tiene insieme come dicevamo il logos l'ethos e il patos dobbiamo rivolgersi all'opera d'arte o all'opera di Romano Guadini ho preparato una citazione sono quattro paragrafi e vorrei spiegarlo approfondire ogni paragrafo perché con questa citazione lui spiega la carità dell'immagine prima citazione per due volte in due domeniche di fila ho ascoltato questa grande opera lui parla di Wagner ero andata lì con un pregiudizio sfaforevole anzi che cosa posso dire entrambe le volte mi ha reso più buono mi ha fatto pregare questa prima fine citazione parla di di un pregiudizio che porta alla preghiera ma lo salvatore deve superare questo pregiudizio deve superare questa arroganza ma come lo fa e lui continua secondo punto cito e poi lui Brahms ha qualcosa che hanno anche altri del suo calibro una sensibilità profonda e persino un cuore tenero che non può esprimersi soprattutto perché la lotta è troppo violenta perché ciò che lo circonda è troppo potente e selvaggio fine citazione in questo caso Romano Guardini parla di una lotta la lotta dell'artista la domanda è ma che lotta intende cito dal suo libro tale creatività è subordinata ad un compito il compito significa il compito dell'artista significa servire all'essistenza ma in che senso la creazione dell'artista serve all'essistenza Romano Guardini ci dice che l'artista deve diventare un strumento per rivelare l'essenza delle cose degli eventi attraverso la facoltà della forma cito il pittore cogliendo l'essenza delle cose coglie in verità anche se stesso quando percepisce il contatto essenziale di quel ente si risveglia qualcosa nella sua propria essenza nel divenire cosciente dell'essenza dell'oggetto l'artista aumenta la coscienza di sé portanto a quello che Guardini chiama l'incontro tra intimo dell'artista e l'oggetto che porta ad una sorta di risveglio e compenetrazione di tutti e due questo significa in effetti l'incontro a differenza del semplice impattersi o un atto empatico vediamo una cosa ne percepiamo una caratteristica peculiare la grandezza la bellezza e subito come un ecco vivente qualcosa risponde in noi stessi si ridesta si innalza si supplica e si sviluppa scusatemi così il genio dell'artista riesce attraverso questa elaborazione intima a dare un significato universale alla raffigurazione cito ma c'è di più sebbene ogni raffigurazione sia focalizzata su un frammento del mondo l'artista la percepisce e la elabora creando un qualcosa di misterioso nelle parole di Guadini un potere che è un potere di creare un'unità dei frammenti stessi e riuscire a dare un senso dall'unità all'esistenza immagine immagine che hanno un effetto salvifico ed illuminante sullo spirito e sulla creatività della testa stesso stato in cui l'artista creativo si trova o si trova è simile a quello di un bambino dice o di un profeta adesso la terza citazione perché adesso ha solo parlato dell'artista e della sua lotta cito ma se è venuta fuori una volta proprio questa lotta proprio questo incontro dell'artista con le cose come il breve sguardo accenteo nel metallo bollente allora è di una delicata bellezza tale come un miracolo Grunwald lo possiede in Michelangelo e in altri l'ho trovato alcuni passaggi della sua musica sono di una dimensione selvaggia dove tutti in furia e tutto turbina con profonda tristezza di sfida fine citazione la cosa interessante che non parla solo della lotta dell'artista ma parla della lotta dell'arte stessa dell'immagine ancora più importante cito cito Romano Guadini ancora più importante e allora chiedersi che cosa significhi l'opera d'arte in quanto tale per l'uomo abbiamo già visto come l'artista guardando e formando l'oggetto ne faccia apparire con purezza l'essenza nella medesima apparizione egli rende manifesta anche la propria essenza e quindi l'essenza umana in generale un'autentica opera d'arte non è come un qualsiasi fenomeno immediatamente percepito una semplice porzione di ciò che esiste ma è una totalità essenziale per un'opera d'arte continuo con la citazione è avere sì un senso ma non ha uno scopo non mira a nulla ma significa non vuole nulla ma è creato attraverso un processo in cui il nocciolo intimo dell'oggetto è penetrato nell'intimità dell'artista dà all'opera d'arte un carattere sofisticato quello che rivela questo atto creativo non si può avere in un altro modo perché ogni artista rivela il cito suo incontro con la cosa ma in un modo decifrato perché l'opera d'arte non è dettaglio come ogni apparenza visiva ma rappresenta una unità nel rendere presente nella sua universalità la cosa l'artista esplicita e sublima l'essere dell'oggetto e così facendo l'artista crea qualcosa che non tocca soltanto lui ma tutti gli uomini così così l'artista entra in una dimensione straordinaria perché oltre a mostrare come la verità teologica tocchi l'uomo riesce a estrapolare questa verità e la usa per mostrare aspetti diversi della natura umana nella sua generalità dando così un profondo significato antropologico all'esperienza teologica raffigurata così le grandi opere sono messaggi insuperati sulla natura umana che nascondono da una visione intima del singolo per svegliare i segreti dell'anima di ciascuno di noi l'ultima citazione è proprio quella cito in questi momenti parla dell'osservatore in questi momenti sì l'osservatore guarda in profondità nel cuore dell'uomo spesso è solo come un debole sorriso che svanisce subito e poco dopo sulla fronte della testa c'è di nuovo buio e la bocca è di nuova dura però se l'avete visto una volta allora dovete amarlo con un amore che prende cura dell'altro direi perché avete visto il bambino sotto una superficie di ferro fine citazione significa nello sguardo l'apprezzamento e nel sentire dell'uomo che esperienza l'oggetto questo acquista una nuova pienezza di senso nel suo spazio lo spettatore sperimenta però anche il fatto che qualcosa accade anche con lui l'arte dunque cita e tutta citazione di Romano Guadini dunque aiuta l'uomo a diventare ciò che è l'arte dunque in questo senso l'arte è apocalittica prende quando ha da riscuotere e ne ricava qualcosa di sempre nuovo nuovo interiore e nuovo esteriore ci fermiamo un attimo queste citazioni hanno spiegato un percorso hanno spiegato che cosa succede o che cosa significa un'opera d'arte e che cosa significa di guardare un'opera d'arte la spiegazione teologica che sta dietro questo processo dal pregiudizio alla conversione è proprio l'opposizione polare e il concreto vivente dell'immagine che cosa significa l'oggetto della ricerca di Guadini è il concreto vivente la vita nella sua effettualità che va oltre qualsiasi implacatura concettuale per cui il suo riconoscimento è dato a azioni come schauen intuire vedere o fühlen sentire che ci pongono di fronte non ad una risoluzione concettuale ma all'emerge di una forma gestalt che vive di opposizioni di tensioni oppositive fuori dentro e così via la riflessione di Guadini intende mostrare l'esperienza di un incontro che si manifesta in una polarità tale polarità non indica un sistema chiuso in sé stesso ma aperto alla trascendenza e in questo senso l'esperienza dell'incontro è anche l'esperienza dell'alterità l'esperienza autentica descritta da Guadini richiama dunque un atteggiamento di rispetto per le cose lascia essere alle cose ciò che le cose sono attraverso un atteggiamento di silenzio e di attenzione che intuisca il linguaggio delle cose citazione di Romano Guadini l'atteggiamento conoscitivo ha dunque primariamente un carattere etico dimmi come guardi un'opera d'arte e ti dico chi sei è un compattamento contemplativo in quanto è un vedere ogni cosa come una totalità in sé e tuttavia in ogni cosa compreso lo stesso interprete è visto il tutto a sottolineare che la totalità dello sguardo appartenente alla Welt Anciaum non è unità se non come ultima relazionalità dice Romano Guadini il compito dell'uomo è andare a Dio e di condurre a lui il mondo delle cose e la rivelazione che fornisce una risposta a questa esigenza insieme in mente e trascendente della Anciaum così il punto di appoggio da cui guardare a distanza il mondo senza perdere il rapporto con il mondo è costituito dalla persona di Cristo questo è il segreto della teoria di Romano Guadini su questo punto Romano Guadini è chiaro è determinato affermare che di fatto la storia dell'uomo fornisce l'esistenza concreta di questo punto andas attic che è Cristo equivalente ad affermare che solamente l'uomo che crede in Cristo e credere significa vedere con i suoi occhi e misurare con i suoi criteri ha lo sguardo della Weltanschau cioè vede il mondo per quello che veramente è vastità di esperienza e profondità aiutano un simile sguardo che è anche vivo giudizio sul mondo ma non ne costituiscono l'essenza che invece è data dalla forza della fede la fede compare nell'umano come essito di una fenomenologia orientata da un punto di vista trascendente con le mie parole proprio il modo come noi vendiamo vediamo incontriamo l'opera d'arte si rivela la nostra vera fede si rivela se la nostra fede è vera se è esistente così la conoscenza dunque si è fatto effettua come già abbiamo accenato come un incontro di due sguardi Herblick Hinblick dall'incontro da questi due sguardi non emerge il giudizio astratto o il concetto bensì abbiamo detto la forma la gestalt dell'essere lo splendore dell'unità del significato così attenzione non vede noi un insieme di elementi sensoriali ma forme significative vedere seen forse è meglio dire sorgere Herblick significa anzitutto e fondamentalmente venire colpito dall'apparire significativo dell'oggetto e sollecitati alla comprensione del suo contenuto mi piacerebbe di ripetere questa frase perché noi pensiamo guardare e di vedere quello che sta davanti a noi invece questo sorgere applicen significa anzitutto e fondamentalmente secondo Romano Guardini venire colpiti dall'apparire significativo dell'oggetto e sollecitati alla comprensione del suo contenuto di sinne o di religiose accountness l'occhio vede dunque un vivente come vita organizzata così l'apparire delle cose rende non soltanto chiara la loro essenza ma chiaro dietro ad essa qualcosa altro qualcosa ultimamente autentico dietro ad ogni esprimibile qualcosa di arcano e di arcano e insieme di profondamente intimo qualcosa che si distingue da tutte le cose e che tuttavia soltanto può donare ad esse il loro definito peso di esistenza avete capito questo è anche fondamentale perché è tutto altro è tutto questa cosa così tale incontro caratterizza l'esperienza dell'uomo cito l'esperienza religiosa non è un semplice stato emozionale un sentimento una funzione della soccettività ma un autentico abbracciare con la mente divenire consapevoli e certi è il processo di un darsi per cui chi lo sperimenta viene a conoscere una realtà determinata così come chi vede è consapevole di una cosa illuminata fine citazione l'arte l'arte dovrebbe dare significato alla fede la fede dovrebbe ricevere una nuova vita attraverso l'arte ma proprio in questo in questa esperienza estetica se lo chiamiamo così vediamo il legame con gli esercizi spirituali ignaziani che cosa ha in comune il discorso estetico etico di Guadini e gli esercizi spirituali il volto dell'altro non si vede ma si sente dinanzi al volto non si stabilisce una contemplazione ma semmai un estasi nel senso di spostamento mutazione differenza l'epifania e il linguaggio e la relazione al volto che appare e discorso come ciò che si cerca ma di cui non ci si impadronisce perché il cammino con l'opera date e il cammino degli esercizi spirituali è un cammino nell'invisibile perché non tende allo svelamento ma alla ricerca così negli esercizi l'immagine non è un dominio dominio è di fatto un cammino nell'invisibile perché il volto di Cristo e la sua storia già si offrono all'immagine ma lo scoperto non si perde nella scoperta tuttavia non vi rimane e si dirige verso il mistero che per Ignazio è la realtà divina che si rivela nell'evento così abbiamo detto prima Romano Guadini e anche Ignazio porta a Gadama Segueri di Uberman perché l'immagine non è produzione allucinazione o buona memoria scrive chiaramente Ignazio immaginando Cristo nostro Signore presente numero 53 dove è da sottolineare presente perché l'immagine presentifica il mistero sua fonte inesauribile non è una coppia non è un fattisimile un posta una cartolina ricordo è essa stessa una esecuzione del mistero così ogni contemplazione Ignaziana consiste nel accadere del mistero stesso il quale è incompleto finché non trova il destinario della relazione offerta la dimensione dell'immagine Ignaziana non è quella della nostalgia del ricordo del tempo perduto e ricercato ma quella del presente dell'attualità dell'affetto come antitesi della nostalgia il vedere Ignaziano è finalizzato al cito conoscere intimamente 104 non è un vedere esteriore apparente invece si inoltra fino a cogliere la realtà spirituale in ciò che ha di più profondo chi contempla così posto davanti a Gesù nella sua umanità apri gli occhi al mistero la contemplazione Ignaziana è di questo tipo e crea un certo tipo di contemporaneità al mistero che accade è proprio questo la differenza tra l'immagine della carità e la carità dell'immagine è nel processo visivo che si manifesta la carità dell'immagine in questo caso andiamo oltre il sentimento empatico del vissuto nell'immagine della carità spiegato all'inizio dell'immagine della spiritualità della perfezione noi sentiamo empatia per le figure perfette dipinte invece la carità dell'immagine è caratterizzata dalla nuova mistica nell'Evangelio Gaudium Papa Francesco lo spiega divento io il luogo delle paure dell'altro per superare le proprie sfiducce forse adesso un quadro come quello di De La Croix può rivelare la sua bellezza anche se abbiamo detto prima che quest'opera almeno in quel periodo per la Chiesa non era proprio accettabile troppo brutto e dopo anche perché non si capiva si capisce bene non è un messaggio chiaro ma forse adesso possiamo capire quello che dice De La Croix sull'opera date perché di fare insieme adesso con voi un cammino con l'opera date prende un'ora o due ore di farlo insieme e di imparare a guardare nel senso di Romano Guadini ma almeno vorrei aprire gli occhi forse per qualcosa che non si vede subito e questo è quello che De La Croix chiama la pintura et toi même la pittura sei tu stesso la domanda è che cosa vuole dire sembra che lui ha letto Romano Guadini o almeno Ignazio nell'opera La Tempesta è stata sempre interpretata come normalmente con questo tema e la barca gli apostoli sono completamente disperati e c'è Cristo che dorme normalmente si fa e così si legge nei libri un discorso teologico sulla tempesta sono le nostre paure noi ci identifichiamo con queste paure degli apostoli ma alla fine noi immaginiamo che Cristo si sveglia e così benedice e così la soluzione la speranza è conclusa o si si rivela invece della croix voleva tutto altro e questo diciamo solo per sensibilizzare un po' dobbiamo guardare bene questo paradate la prima cosa che noi che normalmente non si trova nei scritti nei libri si vede una donna la donna ha un ruolo fondamentale per della croix la libertà che salva il popolo dipinto da della croix la donna salva ma in questo caso come salva se noi guardiamo bene lei sta guardando Cristo che dorme e dà anche una mano a quella figura molto particolare qui a destra pieno di sangue che sembra completamente fuori di testa mettendo le braccia in alto abbiamo un altro che ha quasi un pugno che vuole quasi piccare o non si vede bene che cosa vuole fare e vediamo tutti gli altri disperati o diciamo distratti ma la donna e questa donna solo per far vedere adesso non abbiamo il tempo ma vediamo che della croix ha imparato tutto degli altri artisti anche qui nella trasfigurazione di Raffaello la donna al centro è la figura fondamentale è l'unica lei con due mani indica sul bambino epilettico guardando agli apostoli dicendo che cosa loro devono fare guarire questo bambino è l'unica che non è disperata l'unica che è piena di luce invece gli altri sono molto più nel buio e anche disperati io no ma forse lui e spiegano tante cose invece di aiutare possiamo dire che della croix va oltre di quello che fa Raffaello nel rinascimento in che senso nel senso che questa figura qua insegna a noi come guardare l'opera d'arte perché lei guarda questo Cristo pieno di luce involto in questo panno bianco ma perché perché dobbiamo guardare lui che sta lì dormendo la cosa affascinante è che l'unico operadate della tempesta che non fa vedere la soluzione perché normalmente si vede la barca si vede Cristo che dorme tutti sono disperati e dopo si vede Cristo che si alza e benedice normalmente un'opera d'arte ha tutto il percorso dall'inizio fino alla fine dentro di sé e della croix ha fatto a posto non ha risolto il problema la persona che ha capito questo operadate era Van Gogh sono spesso gli artisti che capiscono altri artisti Van Gogh dice la speranza c'è nel bianco e questo è forse il punto interessante perché lui della croix non sceglie il momento della soluzione finale ma in cui abbiamo detto dalla benedizione perché vuole come dice l'opera date sei tu stesso che cosa significa significa che dentro di noi noi siamo il luogo dove questa speranza si rivela si dovrebbe rivelare e per questo una cosa interessante non ha raffigurato la tempesta ma qui una figura piena di sangue con le mani così indica quasi alla crocifissione e anche qui questa figura molto interessante che era normalmente lui ha fatto tante tante versioni un uomo che dorme abbiamo quasi una mummia un morto una persona morta involto in questo panno e alla fine abbiamo e questo è tipico iconograficamente la ressurrezione che normalmente Cristo con un panno bianco pieno di luce che sta lì dormendo così in questo caso la carità dell'immagine è che proprio noi diventiamo il luogo in cui e questo è interessante quando della qua dice la mia arte non voglio che si capisce io io non voglio che razionalmente si avvicina alla mia arte e Baudelaire dice perché è opium è una droga perché lui dice l'unico l'unica cosa importante è che l'uomo diventa autentico così vorrei concludere questo percorso di quasi che l'opera date adesso in della croix è abbastanza ovvio l'opera date è quasi una prova della nostra fede è un momento in cui noi dovremo sentire dentro di noi che è vero che lui si risveglia e aiuta a noi se questo come Romano Guadini ha descritto nella sua citazione se noi non arriviamo a quel punto di quasi di vedere il bambino e di essere toccato profondamente di voler prenderlo in braccio e così di sentire la selvezza non abbiamo mai incontrato l'opera date grazie 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 grazie